Dal 2007 Universal Science ha portato avanti un programma ben preciso e una focalizzazione molto chiara sulla propria attività e il suo ruolo nel mondo dell'illuminazione, la produzione e lo sviluppo di moduli LED. Le nostre schede sono tutte marchiate RED, Integrating Lighting Technologies, brand registrato in Unione Europea che è garanzia di qualità e simbolo della presenza di una sede produttiva in Italia. Fin dalla sua nascita l'azienda ha continuato a crescere. Abbiamo tutti gli anni investito nelle nostre capacità produttive. È stata da poco inserita una pick and place a 20 teste con capacità di montaggio di 95.000 componenti ora che ci ha permesso di raddoppiare la capacità produttiva. Un X-ray con l'aminografia, con software di ultima generazione, consente di effettuare una fedele ricostruzione tridimensionale delle immagini. Per noi è un grande traguardo, è una macchina che ci permette di tenere sotto controllo il processo produttivo in maniera molto precisa e continuativa. Tra le novità di quest'anno siamo fieri anche di annoverare l'ampliamento del laboratorio interno con nuova strumentazione. Qui vengono svolti tutti i test prestazionali sui moduli LED e sugli altri componenti al fine di confermare i dati tecnici e verificare la compliance con le normative internazionali. Adiacente al laboratorio si apre il nostro magazzino, base solida del lavoro quotidiano in Universal Science. Si tratta di uno spazio molto ampio e organizzato, dotato di un sistema di storage automatizzato per i componenti elettronici. Non vanno poi dimenticati i nostri investimenti nelle risorse umane. Questo è l'elemento più importante che abbiamo in azienda e quello su cui puntiamo. Negli anni abbiamo strutturato l'ufficio acquisti e l'ufficio vendite per lavorare in sinergia, per creare la massima flessibilità e supporto al cliente in qualsiasi tipologia di problematica. La presenza di un team affiatato di ingegneri e specialisti garantisce ai nostri clienti un valido supporto nella progettazione dei corpi illuminanti e dei singoli componenti di un sistema LED. Ci prendiamo cura di ogni aspetto tecnico legato al corretto impiego dei LED, dall'elettronica alla gestione termica, dall'ottica alla meccanica. Tutto questo, unito alla conoscenza approfondita dell'evoluzione del mercato è ciò che caratterizza fortemente la nostra realtà aziendale. La mission di Universal Science è da sempre quella di contribuire allo sviluppo dei prodotti dei propri clienti, applicando le tecnologie più corrette ed aggiornate.